Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua dal vostro non caro Fleezy Oggi siamo qua su Metal Gear Solid 5 Ma voi sempre vi starete chiedendo Perché? Perché? Dopo tutto questo tempo che è uscito così completamente a caso Comunque sono qua oggi perché andando nello store di abbonamenti Ho visto Aspetta Un gioco che conosco, che ho già sentito, che sembra famoso e che è gratis E l'ho scaricato Semplicemente qua Come un po' come Warframe No Dove hai difficoltà a parlare? Dove hai difficoltà a parlare? Guarda, per favore Guarda Molto bene Molto bene Molto bene Come ti senti ora? Come ti senti? Chi è sto tizio che è un inglese? Assurdo, veramente Chi era il tuo professore che lo vado a abbassare i piedi? Da quanto è bravo? No, siamo in Russia Siamo in Russia Enter your name Peto fluorescente Ok Siamo nati Il primo Il primo gennaio Ok Peto fluorescente Nato il primo gennaio dell'anno non si sa quando Good Good Con la tua faccia mi rilascio di sicuro, guarda I'm going to tell you something I'm going to tell you something And try Not to panic Cos'è vuol dire? Try not to panic Stiamo agitando La droga Try not to panic Try not to panic Ci hanno inquietato una droga Che non si sa cosa Che non si sa cosa Be happy Che non si sa cosa La mia testa C'è uno dei frammenti di ossa nella mia testa e nel mio bo... Ah, ok, quindi ho dei fr... Cioè, sono rotto, sto cadendo... Cado a pezzi, ok. Sono bellissimo, sono fiero, ok. La droga! La droga! La droga! No, ma... Mi manca un... Una mano! La droga, la droga! Sì, ma... Io voglio giocare, non voglio... Mi insegnarti la droga. Calm down. Don't be panic. Don't be panic. Grande! Non vedo l'ora di fare del mio personaggio un... Una cosa bellissima. Allora, vuoi tu, brazaleto? Brazaleto, un euro, un euro. Brazaleto, un euro, un euro. Io ho abito in Cina, Cina è molto bella. Sì, sono sottopagati, ma la gente è bella. Abbiamo degli occhi belli. Sì, siamo bellissimi. Non guardarmi in quel modo. Io, essere cintura nera di karate, ti spaccherò la faccia. Se solo provi ad avvicinarti a un mettere in mezzo da me. Io, io avere famiglia, per favore, risparmiatemi, liberatemi, liberatemi, padrone, per favore. Io avere una bella famiglia. Il mio figlio ha bisogno di dormire, ha bisogno di cure. Io sono l'unico che gli rimane, l'unica cosa che gli rimane. Aiutami, aiutare me, aiutare me. Ecco ragazzi, petofluorescente. Da oggi e per sempre nei nostri cuori. Cioè, guardatelo. Quanto è fiero. Guardalo, cioè, come fa a non piacerti petofluorescente. Cioè, una vera e propria pera marcia. Fierissimo, fierissimo, fierissimo. Very good, molto good. Oh, bellissimo. La tua faccia sembra bella, ma fa cagare il cazzo. Cioè, proprio... Il mio nome è Akab, non è, il mio nome non è Akab. Il mio nome è petofluorescente e va rispettato. Perché è un nome che i miei genitori mi hanno dato dalla nascita. Perché loro si tengono a me. E non voglio offenderli. Perché petofluorescente è un bel nome. Chi è? Chi sono quei pezzi di merda? Non li conosco. E puoi metterli via perché è un mese con cazzo. Comunque se non se ne è accorto c'è un... C'è un attimo... Until this day. Io non sono quello. Io sono petofluorescente. Grande. No. Grande. Chi è quello che viene stuprato ora? Tu, tu, tu subri la gente e verrai stuprato. Perché tu sei un sombratore seriale di quelli di merda. Ok. Va bene. Sparami dai. Forse alla fine... È la cosa più giusta che... Ho capito che qua stiamo... Ho capito che questo è un gioco per stupratori seriali. Ok. L'ennesima persona che viene stuprato. Ok. Bellissimo. Dice che quello comunque sta peggio... Peggio... Peggio di noi. Vai, vai. Tiragli i pezzi di zibo. Bomba. L'acido. Ah no. È quasi infiammabile. Ora gli dà fuoco. Grande. Ora quindi gli diamo fuoco. E brucia in modo bruttissimo. Dai voglio... Diamogli una... Diamogli un bel accendino. Oh. Con un'altra ti fa lo zoom. Con un'altra ti fa lo zoom. Ok. Basta. Questo è il verso che facciamo i tizi. Mentre stavano venendo stuprati. Grande. Bella lì. Non si sa come abbia preso fuoco così per magia. Lei è un comburente. Vabbè. Ok. Vabbè. Grande. Molte di sovranaturali. Tortaman. Cioè. Lui è... Cioè. Quanto è fiero da una dieci? Quello lì. Un altro. Eh vabbè. Si trasforma nel demonio. Ma che cazzo è? C'è un martedì da... Uno smaltore seriale che parla all'inglese con molti dubbi. A tizi che vengono soprati. A tizi che prendono fuoco da soli. E che diventano un demonio. A un... A diventare dei pirati. Va bene. Applausi. Gioco. Gioco dell'anno. Gioco dell'anno. Peto... Peto Florescente ti è debitore. No. Comunque lei sta peggio di noi. Devo dire. Noi siamo brutti. Ma lei comunque ci fa veramente concorrenza. Devo... Che fa tra l'altro ci lascia qua come un verme. A strasciconi. Così. Sì no. Abbiamo delle braccia che comunque sono veramente... Pala. Abbiamo trovato un tuo concorrente. Ok. E... Dai. Io credo in te. Nelle tue capacità. Con quelle tue braccine da... Mezzo utensile. Da mezzo utensile. Vabbè ma sei scarso però anche te. Cioè movit. Dacci una mano. Ma letteralmente perché me ne manca una. Cioè. Sì sì. Vieni avanti. Vieni avanti. E noi intanto andiamo a strasciconi. Non puoi aiutarci. Cioè. Giusto non so. Una mano. Aiutarci ad andare avanti. Senza... Star per morire il dasma. Cavolo. No no no. Fierissimo. Sbrigati sbrigati. Sbrigati sbrigati. Vai vai vai. Sbrigati sbrigati. Ma vaffanculo. Sbrigati. 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 Cos'è. Un angelo. Un demonio. Ma chi è? Ma io che zappo quando dico che potevano prendere fuoco da soli. Non stavo parlando sul serio. Il demonio. Ok. Sì dai. Sì. Erano messi in una condizione veramente pessima. Quindi non credo che sopravviveremo. Salve amico mio. Mi sa che il premio brutto dell'anno lo prenderemo noi. Cioè. Ce l'ha giocata bene ma. Nessuno può battere il petto fluorescente. Che male all'udito. Che mi procuri. Di te. Pesso di merda. Che ma stai calmo. Ok. Possiamo. Possiamo parlarne. Possiamo parlarne davanti a una bel caffè. Cazzo. È ancora vivo. È ancora vivo. Ok. 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 Veramente. Fierissimo. Ma mi è un bello storto. Cioè. Così. È così. Che cazzo. Grazie. Tecniche mediche di quelle avanzatissime. Ci ha messo a posto in braccio proprio così in un colpo solo. Veramente. Veramente fierissimo te. Devo dire. Cazzo vuoi? Levati dai i cosiddetti per favore. Eh scusi signori. Io non sono a nulla. Ok. 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 Non ci ha visto. Miracolosamente non ci ha visto. Ma lei è un po' di te coglioni. Ma chi ti vuole? Te stesso di merda. No. Chi si scopre? Ok. Lui non c'è. Bravo. Volevo sbattere da fanculo che a me non me ne frega un cazzo stiamo per morire. Capito? Non mi importa nulla. Che è bussa? Muori. Ecco. E poi hai le butelle di fuori perché c'è un pezzo di merda. Chi ti vuole a te? Cioè proprio. Cosa mi tocchi i miei bellissimi piedi? Eh non c'è nessuno qua. Per favore. Ok. Grande. Che cazzo? Ho capito ma. Il suono. Tadà. È questo suono. Cioè proprio della serie e non mi scoccia fare un nuovo suono per il mio gioco. Speriamoci uno che troviamo su internet a caso. È quello che utilizzo io nei miei video. Vai. Sto intorno a tutti. Andate a fare in culo va. Vai vai vai. Levatevi dai coglioni. Levatevi dal cazzo. Chi ti vuole brutta faccia. Levatevi dai coglioni in pezzo di me. Bel culo. È un grande zoom. Mi piace veramente. Tanto per cambiare. E chi è che ci salva con noi? Il nostro amico. Giustamente. Perché il nostro amico è fierissimo. Col suo culo è fierissimo. Ma letteralmente. Guardate quel bel culo lì. Mi scusi. Vai qui sotto fiero. Ok. Ah così vediamo anche dove sono. Grande. Vaselina vaselina. Vaselina vaselina. Vaselina vaselina. Ma io lo so. Io ero già sotto a letto. Non so se ti è capita questa cosa. Ma. No. 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 Ma. La faccia. Grande fieri. Comunque. La faccia era quella di Mason. Di Black Ops. Non so se l'avete riconosciuta. Salve bel signore. Qua non c'è nessuno. Non c'è andato di guardare sotto al letto. Perché sotto al letto sarebbe troppo scontato. Come in alcun dirlo. È impossibile che ci siano qualcuno. Che per caso ti stia nascondendo da voi. Perché ha paura di morire. No. Tranquilli. Sotto al letto. È un nascondiglio troppo ovvio. Non ci sarà mai nessuno. Tranquilli. Siamo morti. Non abbiamo nessuna gota di sangue. A differenza degli altri. Però siamo morti. Perché. È giusto così. Abbiamo anche la testa alzata. Però noi siamo morti. Mi raccomando. Perché noi siamo fieri. Comunque la tensione è al massimo. Devo dire. Dall'inizio. Dallo superatore seriale. Fino al di qua. Grande. Uccidono. Qua non ha tutti. Tranne. Ovviamente. A noi due. Perché. Noi siamo i protagonisti. Dobbiamo continuare avanti la storia. Perché se moriamo. Finisce il gioco. Quindi giustamente. Si è piaciato addosso. Si è piaciato addosso. Si è piaciato addosso. Si è piaciato addosso. Ah. Ok. Dicevo. Un altro demone grande. Ma basta demoni. L'uomo torce. È arrivato pala. Torce. Che non gli fa nulla per me. Grande. Che si vuole da di sotto. Fierissimo. Granate. Granate. Cominci a essere con. Take this. Take this. Ovviamente. A lui non gli fate nulla. Perché lui è torcia man. Che cavolata. Che cavolata. è avviato la webcam. E' avviato la webcam. Guardalo. Fierissimo. Che cazzo è? Torce man. Argoniano. Cioè. Mi è in possesso di lui? Eh. Magari. Se non è lì. Si stanno per morire. No. Amico mio. Eh. Compagno di mille avventure. Aspettami. Lui cammina. Così c'è il tempo di. Ma cosa gli. Eh. Se la mente. Gli tirano. Centomila missili. Granate. Spari. E tu pensi di fermarla con una pistola. Silenziata. Tra l'altro. Ma tu sei proprio una causa persa. Ah. Lui è studiato. Compagno di mille avventure. Sposiamoci. Hai un bel culetto. Voglio sposarmi con te. Compagno di mille avventure. Ah. Fantastico. Così. Pah. Tac. È come nuovo. Ok. Quindi se mi rombo una gamba. Tac. A posto proprio. Ferissimo. Nuovi metodi. Vai. Petro florescente. Grande amico mio. Posso spararti in testa? Vieni qua. Grande. Grande. Gioco dell'anno. Grande. Non me lo farò fin dall'inizio. Pezzo di merda. Anche se ci ha salvato sempre. Però pezzo di merda. Lui è il griefer. Si copre le spalle. Ma l'ho sbarato nelle chiappe. Ma dai. Non può morire. Il griefer. Una granata fiera. Ah. Una diversiva. Fiero. Arrivo io. Ta-da. Ta-da. Ma. Ma basta. Sto effetto sonoro che utilizzo anch'io. Levate la vita ai coglioni. Levate le palle. Levate le palle. Levate le palle. No 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 no. Eh. Ma che cazzo fai? Sei scemo? Copriti. Pezzo di questo visuale di merda. Copriti. Pezzo di merda. Ma cosa fai? Pezzo di merda. Non prendere il volo. Oh. Ci sei o ci fai? Vasellina. Ok. Ci intero a tutti. Torcia man. Tonato torcia man. Scena epica. Non tanto per le mie orecchie. Però epica. Sì. Chi cazzo sei tu? Torcia man di nuovo. Attivate l'antincendio. L'antincendio ci salva. Che poi c'è fuoco su fuoco. L'antincendio non si attiva. Bisogna spararli. Cioè. All'antincendio. Per attivare. Ma che è una boccinata. Cammy cammy. Eh. Sì. Vabbè. L'onda energetica. L'onda infocata. Cioè. Chierissimo. No. Guarda. Eh. Forse è meglio levarsi dei coglioni. Sì. Hai ragione. No. Li manda indietro. Lo sapevo. Lo sapevo. Me ne ero. Me ne ero reso conto. E' il tuo turno. Grande. È di. Sì. Di quanto. Di un pelo. Di un pelo pudito. E vabbè. Tutte da partire chiapte proprio. E il nostro amico? Dov'è il nostro amico? Ah. È che l'incarro armato. Ah. Invece. Eh. Sì. Magari. Sì. Ma comunque questi qua sono scemi. Cioè. Credono che semplicemente sparandogli. Si risolva tutto. Ma non avete avviso che infine ha fatto i vostri. Maledetti amici. No. Allora sono poi testa dura. Guarda. Fieri. Tranquilli. Tanti. Tranquilli. Tanto siete voi che morite. Non io. Fieri. N Method. Sì. Sì. E noi stiamo ancora vivi ovviamente Ecco perché noi siamo fieri Sta morendo Sì sì lo rimani Ma chi è? Il uomo superman Ma chi cavolo è sto tizio? Ma si può sapere chi sei? Quel carro armato Si legami dai coglioni Siete dalle palle Ecco bravo Ho fatto la scelta giusta Non sapevo Sono morto È arrivata la tua fine Non è detto Sì ma è inutile sparargli È inutile sparargli infatti Cioè E volevi Dico a me ma che culo Cioè abbiamo Un culo grande così E chi c'è dentro? Il nostro amico Ma ovviamente Tranquillo amico mio Sto arrivando Ma che cazzo Sta Pio Non piove lo provvedete Piove lo camion Piove lo camion E vabbè Ok Ok Il nuovo film Il nuovo film d'animazione By Metal Gear Solid Cazzo Basta No Il nostro amico Il nostro amico Il nostro amico No Il nostro amico Il nostro compagno Di mille avventure Non possiamo adorarle in questo modo Sì Un nuovo ballo C'è il momento di relax Per chiudere l'episodio Ok, non c'è Stuprami, vai, sono tutto tuo Quindi cosa sta a puoi succedere? Sì, sì, dai La balena Una balena Ma una balena, che cos'è? Cos'è sto, cos'è sto gioco? Trash sul trash Sì, va Ciao, due omerversione fuoco, un unicorno di fuoco Che cazzo è? Ma non è che siamo drogati prima di, prima di sul letto Sì, dai, Napoleone è arrivato Ma che cazzo è? Che cos'è sta roba? Ok, tranquillo, mi fido, ok Non è che l'hai fatto delle droghe che ci ha dato l'usurratore seriale? Fantastico Fantastico Vai, vai Non rimarrai vivo Si, su, tim Ho rimasto un fogliettile, non so se te ne sei accorto Ma che cazzo? Ma che cazzo Sì, è arrivato Zeus Ok Sì È arrivato uno di Windows Grande Comunque è il gioco più amico della storia Che cos'è? No, cavallo bianco di Napoleone Non andartene C'è lui che fa se ne va Piero camminando Tutto quello che è successo direi che possiamo finire qua È successo di tutto Ma proprio di tutto Un gioco più amico della storia Non so se chiamarlo il gioco più amico della storia O il gioco per drogati Questo video Perché non ho la più palida idea Comunque Mi raccomando Andate a vedere il video di CSGO Di CSGO Griffin Che ho caricato l'altro ieri Perché ci sta un botto E non l'avete visto Perché siete delle testoline E niente Questo era Metal Gear Solid 5 Non so se portare altri video di questo tipo Se proprio ci tenete Ma proprio tanto, tanto, tanto A portare altri video su questo fantastico gioco Per il mio Lasciate un bel like E fatemelo sapere nei commenti Se no si continua con dal solito Di tutto ciò Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ah e Con le lasciate un bel like Appunto Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati E condividete il video con tutti i vostri amici Per imparare Per aiutarmi a farmi crescere E fare video sempre più di qualità Ciao a tutti